Da tempo ci interrogavamo sul valore economico ma anche sociale della nostra filiera produttiva, del nostro modello produttivo di viagnoli indipendenti sparsi su tutto il territorio nazionale. Abbiamo ingaggiato Nomisma in quanto player di altissimo livello in questo campo e ne è uscita una ricerca, devo dire molto soddisfacente, che risponde ai nostri quesiti in maniera puntuale su molte tematiche che ci stanno a cuore. Ne è scaturito che i viagnoli indipendenti hanno un ruolo sociale importante, coltivando aree in territorio montano e collinare, in maggioranza, lì dove c'è bisogno di un presidio, di un mantenimento e di custodia di un territorio altrimenti fragile. Quindi il ruolo territoriale dei viaglioli ci è stato confermato, in quanto coltiviamo per l'80% zone di versante in collina oppure in montagna. Abbiamo un ruolo sociale importante, il 30% dei nostri dipendenti sono assunti a tempo indeterminato e questo dà credito anche alla nostra categoria nel instaurare rapporti duraturi con i propri dipendenti che a quel punto diventano collaboratori d'impresa, a noi piace definirli così. Abbiamo anche un ruolo importante nella definizione della qualità delle produzioni, il nostro atteggiamento è sempre qualitativo, tant'è che scegliamo di produrre in maniera biologica, questa scelta riguarda più della metà dei nostri soci, e puntiamo sempre al vertice qualitativo di tutte le denominazioni, tant'è che il nostro prezzo medio di vendita si attesta più o meno al doppio rispetto alla media nazionale. Questo ha un ruolo importante sul richiamo nelle denominazioni nei territori evitati, tant'è che anche nel comparto dell'enoturismo la nostra categoria svolge un ruolo di player importante. Il 90% delle nostre aziende fa vendita in cantina ed attrae clienti e turisti che per un 40% sono turisti stranieri. Quindi anche per quanto riguarda il fenomeno dell'over tour, il turismo secondo noi è l'enoturismo e il ruolo degli olivi indipendenti italiani può essere un ruolo importante per far defluire un po' di turisti nelle campagne, e non nelle solite città d'arte o nelle attrazioni principali italiane.